musica 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 dai ha cambiato il moto eh però patch non ne sono uscite quindi tu musica ma che cazzo vuoi Emanuela Dio santo che col cecchino ha camperato a fondo spawn Dio santo su metro no ti vado con Dio ma c'è ma dai oh Dicom Dicom porco tu e fammi usare meno la cosa dai morici ma no ma come cazzo cazzo giocano la gente su metro dentro le casette sta tutte cazzo dentro le casette ma uno che mi challenge almeno uno non chiedo tanto uno che mi challenge Emanuela è fortissima col cecchino ma che è e mi nonna è diventata oddio raga oddio ho fatto una coda in due secondi ci sarò ok eh tu sei uno stronzo però sei uno stronzo vero ma porco due ma quest'altro predatore novantanove ma l'immortaccio di tutta ma quanto si arriva il TCT? 30? il solito ha 30 ok questo ha 6 il secondo è a 3 predatore lecca mi coglione ma oh mamma mia quanto cazzo mi feoio a te quanto ti dici che cazzo però tu ti dici oh mio dio oh mio dio mi fanno uccide da sto qua no erano in due vabbè ha perso o me invento come è il bingo? ma basta dai ma te co oh Emanuela mi ha rotto veramente i coglioni come fai a giocare col cecchino in TCT e a fare tutte quelle chili? se non lo smetti lamentarti non sento l'audio di gioco eh vattene affanculo loro se non senti che vuoi la mente eh muto mi fei bene eh muto mi fei bene oddio non smetti lamentarsi di gana mi fa stare un po' zitto ma dai quanti quanti cazzo mi spara non volevi fare un spazio nazionale non volevi fare un spazio nazionale non volevi fare un spazio nazionale eh non ci credo questo qua c'è la mira perfetta guarda oh guarda oh questo tingo ma che cazzo dai no andai dietro ok il mortaggio tu l'ho visto all'ultimo che cazzo che merda questo in mezzo Eh ma ce l'ho guardato al dietro che c'era gente dietro. Oddio rega li sto spaccando! Dio! 17 io il secondo è 8! Non c'è cari! Qua si arriva a 20 comunque! Per farti capire onda che facciamo chi sono noi! No c'è la super corri! Cacchio! No zii! No zii! Dai! C'abbiamo i botti in squadra zio! Va bene l'XR2 è morta! No zio! No zio! Cio che palle però dai! Non mi puoi fermare a 17 e non me ne muore più uno! C'abbiamo i botti in squadra! I botti! Eh abbiamo giurato in due! Guarda che botti! Col pompa! Schifo! Mi schifo fai! Oh onda post farti capire! Per farti capire no! Il mio compagno no! C'era dietro uno! Mi pare il primo! Prima del primo! D'altra squadra! Ehm! Venuto! Lo stavo tornando! Tipo l'ho ferito! Ma tipo! Era feritissimo! Era tipo uno shot! C'era mio compagno! Io mi sono girato! Io anche io ero un shot! Il mio compagno ha finito il caricatore! Ehm! Il mio compagno ha iniziato a sparare! Ha fatto in tempo a caricare e uccidermi! E poi l'ho ucciso ovviamente! Ehm! Per farti capire i bot no! I bot! Per farti capire! Cambia lobby va! Che inizia per esterminare! Ehm! Ancora un minuto! I bot ci abbiamo scordi! Amo! Ti ho vinto! Ho vinto! Ci credo! Ciao Youtube! Ciao Youtube! Ciao Youtube! Ciao Youtube! Ciao Youtube!